Al via restauro delle antiche lanterne di corso video, oltre alle 16 di proprietà dell'ex Casa Santa dell'Annunziata, ovvero l'ASP numero 2 della provincia dell'Aquila, già sostituite temporaneamente, questa mattina sono stati rimossi anche due storici manufatti di proprietà del Comune, collocati sulla sommità della gradinata della Rotonda di San Francesco. Come d'accordo tra Comune, ASP 2 e Ancel Aquila, le operazioni di restauro, con un costo complessivo pari a 25.000 euro, che si avvale in gran parte del contributo finanziario di Ancel Aquila, dureranno 90 giorni e sono affidate alla società Neri, che specialista nel restauro delle elementi artistici di Ghisa e seguirà il recupero su specifico progetto del restauratore Nevio Albini, già sottoposto al vaglio della sovrintendenza. La riqualificazione rientra nel progetto più ampio di efficientamento energetico avviato dal Comune su tutto il territorio comunale.